1 2 3 via benvenuti in questo nuovo video quale video in questo nuovo video di qua certo di vediamo queste carte spaccettamento sono spade scudo fiamme oscure due busse di fiamme oscure forse qui dentro ci sarà il grande famoso è una sorpresa è certo e quella bussa facciamo vedere del boss il grande boss il big boss dai vogliamo spacchettare facciamo una scommessa mettili qua due queste mettiti di qua queste due buste mettili qua mettili qua mettili qua tutte e due va bene speriamo che qui ci sia una carta molto speciale due sorprese non si sa ancora di cosa possiamo trovare ma rara allora che fai vediamo il colicino se lo meritano non solo meritano all'ultimo all'ultimo colicino l'ho fatto vedere mannaggia vabbè sempre l'ultimo facciamo vedere tanto allora 4 non ce ne frega niente all'ultimo dai fai tu energia energia blu tu che dici energia blu verde blu blu non scurro blu door robu vai metterlo qua favore vedere va bene?" energia blu poi si a sweat fai fede a nessuno energia potente Sì, non dire niente Qui abbiamo Ginepro, allenatore Sì Qui abbiamo Gotorita Qui abbiamo, questa è bellissima Bunnerby Questa è molto bella, mettiamo da parte, non so perché mi piace tanto Winwood Cubchop Sì, alcune ce le abbiamo già Scarmori Goti Goti Gotita Sì Qui abbiamo Corvys Square Corvys Square Corvys Square Corvys Niente Guarda Una carta Rara Bate FV Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì però facciamo vedere qui le carte va bene la prossima volta ecco questo certo facciamo rivedere di nuovo poter sì certo staccata è carina vero roger e rabbit passiva capo sulla busta qua mi sa che saremo super fortunati troveremo il boss alice per boss facciamo vedere facciamo vedere quello questo vai vedere qui spacchetta qui concentrati niente dai più sopra un po più sopra perfetto niente aspetta questa volta codicino codicino togliamo lo mettiamo qui all'ultimo allora uno due tre quattro fai tu però fai vedere qui le carte per favore e che energia è la serba oscura energia ferro qui abbiamo gotorita nuovo lang vanillis sinistri totzell roger no buona di will put abbiamo god di ciò di nuovo poi pikachu ma che carina questa è una diverse comune del capi questo è che via che bella che bella che bella carta e se questo boss star uptor carta rara peccato che non è volo per sempre una carta rara mettiamo qui dai abbiamo questa insieme insieme lo apriamo mamma che duro ma che cosa stiamo rovinando che cosa o signora qua molto avrebbe preso il coltello oppure le forbici ma noi andiamo con le vecchie mani ma non conviene non conviene aspetta un attimo tesoro scusami un attimo facciamo una cosa facciamo alla vecchia maniera un po aggressivo non succede niente a nessuno dai vai vediamo cosa c'è se li sistemiamo aspetta aspetta fai vedere qui allora fai vedere qui la carta è qui sicuramente lo scotch e dopo c'è più che cosa questo preso non c'è niente allora forse alcuni l'avranno già capito però lo mettiamo in questo modo allora qui c'è la carta che in questo momento è una delle carte più richieste perché si trovava e una un pacchetto pre lease di voltaggio sfolgorante mi sembra sì e la famosa carta è questa c'è risarda voltaggio sfolgorante una delle carte in questo momento più ambite questa carta l'ho preso a un prezzo di tra i 40 euro superiori nel primo giorno che è uscito la playlist l'ho comprata da un ragazzo molto gentile che me l'ha venduto subito non diciamo il nome ovviamente ma se sta guardando il video ringrazio molto per avermi dato questo tesoro questa carta verrà bravissima questa carta insieme a newtogix non vi faccio vedere verrà portato a gradare psa speriamo che prende psa 10 che mio papà se l'aveva però gli sera certo mi raccomando per vedere qui li vedono che abbiamo trovato per oggi 3 a bravissima brava arriveranno notti tre altri quattro patti arriveranno all'otto e altre varie carte questo vi faccio rivedere questa carta ovviamente speriamo che questi segni che si intravedono contro luce non siano dovute alla carta ma al allo sliver rigido quale questa è una rega s comune però molto carina sai comunque per finire eccovi la carta la carta che per me andrà a far su un bel giro in america essere gradato da psa speriamo sperando che prenda un bel voto vi ringrazio del video spero che allora ecco quando lo dicesse ringrazio sempre chi quei pochi che mi segue ovviamente sto cercando era ora di essere informato sulle carte pokemon di farmi una cultura di pollice in su questo lo sappiamo pollice in su ciao a dimenticavo no 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 facciamo una cosa veloce dimenticavo i due codicini di oggi fai vedere dietro ecco di qua che potete anche fare il gioco delle carte bravissima questo di qua e questo di qua ciao ciao questa è la carta più rara questa è la carta più rara